Da molto tempo che lavoriamo ci capiamo meglio, quindi la sua critica è importantissima. Del resto il regista è lui, è lui che assuma la rinforzabilità del film, quindi io non posso opporre. Certamente io voglio che la musica abbia impronta la mia personalità, un altro professore si rende diversamente, io voglio seguire così come scrivo, ma naturalmente poi ci sono delle cose che il regista che funccio non può accettare, perché? Ma non bene, per cui ti devo portare le piccole posizioni, le piccolissime posizioni, però c'era che abbiamo già citato, il sonno della terza classica, della ricerca di organizzatori che erano, io ho fatto una collezione che lui fosse importantissima, no, io ho fatto una collezione più efficissima. Il primo è che aveva una tessitura, usava una tessitura più acuta, lo ha passato in due ottava, in qualche modo in due ottava. Quello è legato a rotella. Il pezzo era giusto e il pezzo doveva. Perché lo porto in questa loro ricorda e fa tan, 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 con l'auto sonata, in mezzo, sono, insomma, queste sono, mi stavo raccontando delle cose più intime, tra un regista grande come lui e un regista, con posizioni come me. Quindi, che avete una tessitura un po'. Io ce la diremo apposta. Ma io, io, potrei dire tante altre cose. Ma non è che io ho una testa che mi ricordo molto. Ci sono le nostre avventure creative che portano nei momenti di saggezza, di interesse anche tecnico, che portano a scrivere in una certa maniera, a portare, a rischiare anche un pezzo di consenso del titolatore. Devo dire la verità. Il mio rischio, il mio rischio volentieri più con altri registi che con Percuccio, perché Percuccio sta bene con il riservo. E quindi, quando lo dice, io sto più tranquillo e quindi eseguo le cose più giuste. Però rimane sempre in fronte della mia scrittura. Quella non si può distruggere. Io scrivo musica e quindi il regista, ecco, si deve accettare come ha fatto. Poi, le piccole collezioni, certo che le faccio.